Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Grazie a tutti. 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 colonna della sua spiralità era la Vergine Maria. Si consacrò più volte a lei e recitava ogni giorno il rosario. Nell'ottobre 2016 si ammalò di leucemia. Pochi giorni prima del ricovero aveva offerto la sua vita a Dio, per il Papa, per la Chiesa e per andare dritto in Paradiso. Da quel giorno la sua fama di santità e di segni è andata crescendo in tutto il mondo. Per suo espresso desiderio è voluto rimanere ad Assisi anche dopo la morte. Il 5 luglio 2018 Papa Francesco lo ha dichiarato venerabile e il 5 e 6 aprile 2019 i suoi resti mortali sono stati traslati nel santuario della spugnazione Chiesa di Santa Maria Maggiore di Assisi. La sua parabola terrena si è conclusa nella notte tra l'undici e il dodici ottobre 2006. To inscribe by His Holiness Pope Francis we read the letter of the Holy Father which inscribes carlo accoutis carlo accoutis. Eta crown, eric zona Lucaria di magazine carlo occ insurance. as a servant of God who had youthful enthusiasm who cultivated a friendship with the Lord Jesus he was a witness of Eucharistic love and a model of charity C'è in italiano Lettera Apostolica di Papa Francesco Noi, accogliendo il desiderio del nostro fratello Domenico Sorrentino Arcivescovo Vescovo di Assisi Nocera Umbra Gualdo Tadino di molti altri fratelli nell'Episcopato e di molti fedeli dopo aver avuto il parere della Congregazione delle Cause dei Santi con la nostra autorità apostolica concediamo che il venerabile Servo di Dio Carlo Acutis Laico che con l'entusiasmo della giovinezza coltivò l'amicizia con Gesù mettendo l'Eucaristia e la testimonianza della carità al centro della propria vita D'ora in poi sia chiamato Beato e che sia celebrato ogni anno nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto il 12 ottobre giorno della sua nascita al cielo Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen Dato a Roma all'Aterano il 10 settembre dell'anno del Signore 2020 ottavo del nostro Pontificato Francesco Papa La gente di Dio are giving their affirmation through applause to this new blessed Carlo Acutis we see the image is now being unveiled and that great Amen is resounding throughout this basilica we'll be hearing now a hymn written in honor of blessed Carlo Acutis by Padre Giuseppe Magrino a conventional Franciscan friar in Assisi which declares the blessed young man a true son of the church and an example to all of us is a true son is the son of the church his son of the son of the e so father i see uh that one of the priests is bringing uh what appears to be like a container could you describe exactly what that is that would be a reliquary coming forward with uh the relics of uh the now blessed carlo acutis coming towards the altar and um it truly is a blessed moment within within the church uh his presence not only uh in the kingdom of heaven but also right there with us reminding us of his heroic sanctity so i believe we've just uh received information that that reliquary actually contains a relic of carlo acutis's heart it truly is uh his heart and the example of that great love that he had for the lord jesus christ so 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 i believe the the two uh people who just were actually embraced by the cardinal they were the the parents of uh of carlo acutis just imagine uh being the parents of a future saint isn't that the dream of every single parent every single christian parent yes you'll note that the cardinal now has just incensed the relic of blessed now blessed carlo acutis uh really showing that it is truly part of the holiness of god the cardinal on behalf of his holy holiness pope francis has just recognized as a blessed the venerable servant of god carlo acutis now we'll sing the glory to god in the highest the gloria in thanksgiving to almighty god for this great gift of this great gift of this servant of god this please god future saint is so Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.